Pronto? Maurizio? Pronto! Ecco, ti ascoltano tutti, puoi parlare? Pronto! Uno scroscio di applausi, Maurizio Lupi saluta i rappresentanti dell'NCD a Rivi Sondoli nell'ora in cui era previsto il suo intervento in sala. Parla di un'ingiustizia e di una scelta dovuta. Il nuovo centrodestra è nato su due grandi parole, anche tre. Persona, responsabilità e libertà. Persona insieme e quello che abbiamo vissuto insieme, insieme, a partire appunto dalle persone che vi sono state qui vicino, purtroppo ho dormito praticamente a casa di Angelino e mi deve perdonare, ma anche questo è appunto essere amici. La libertà e la responsabilità perché a noi nessuno ci schiaccia e abbiamo la libertà di poter fare rispetto al bene comune qualsiasi scelta. anche quella di fronte a un'ingiustizia di fare la scelta che abbiamo fatto. E la responsabilità perché noi siamo nati perché vogliamo cambiare il nostro Paese, quindi abbiamo la responsabilità di continuare con forza anche attraverso le nostre scelte e cambiare. Comunque voglio semplicemente darvi un saluto, un abbraccio e ringraziare Federica, mi ha detto che è una bellissima giornata, vi inviderò ancora. Si alzano in piedi la senatrice Chiavaroli, Gaetano Quagliariello a dimostrazione del rispetto verso una decisione difficile ma di grande lealtà. Credo che fosse giunto oggi e domani essere con la mia famiglia, con mia moglie e con i miei piedi. Però volevo ringraziare Federica, di voi Angelino, di Gagliariello, di Gerigariello, per l'affetto, non solo la solidarietà, ma anche perché in questi giorni a partire da Angelino mi avete dimostrato che in politica si può essere, che chi è innanzitutto uomini, persone, ma amici.